Partita sudata e sofferta per Lisernia che dimostra una maggiore voglia di vincere e al triplice fischio riesce a portare a casa i tre punti importantissimi a tre giornate dalla fine. Si impone dunque per 2-1 Lisernia sull'Avezzano, una gara in cui il timore di sbagliare ha permesso a Lisernia di sciogliersi poco e così ad un solo minuto dal fischio d'inizio gli ospiti già sono in vantaggio. La difesa dell'Isernia si dimentica tutta la fascia e Di Curzio indisturbato se ne va verso la porta. Schina non riesce a fare la scudo alla sfera ed ecco servito l'1-0 ospite. Ma passa solo un minuto, la gioia ospite dura veramente poco grazie a Fontana pronto sul secondo palo ad insaccare l'1 pari. All'ottavo si ripete la stessa scena che ha favorito il gol del vantaggio ospite ed ecco che Sassarini trova la conclusione ma questa volta Schina si fa trovare pronto e respinge. Sulla ribattuta ci prova Di Genova ma l'1 di casa in due tempi blocca la sfera. Al dodicesimo sugli sviluppi di un corner di Bisegna provano di nuovo gli ospiti con Menna che fallisce l'occasione. Sull'1-1 dunque si guadagnano gli spogliatoi. A ritorno in campo sono i bianco celesti a tentare il colpaccio. Simonetti servito da Saltarin trova la risposta di Di Girolamo. Prova a ribattere Mingione ma l'1 ospite si salva con il piede. Al dodicesimo angolo di Simonetti stacca di testa Sabatino ma la sfera termina alta sulla traversa. Al ventitresimo Lisernia chiama il rigore per fallo subito su Saltarin ma il signor Guarnieri della sezione di Empoli ravvede una dissimulazione punendo con il giallo il bianco celeste. Qualche minuto dopo lo stesso Saltarin commette fallo su Sassarini ricevendo il secondo cartellino giallo che lo obbliga a lasciare i suoi in dieci. Al trentaduesimo Lisernia approfitta dell'errore difensivo del reparto dell'Avezzano, portiere scavalcato e Mingione insacca il gol che vale tre punti. In pieno recupero ci prova il neo entrato evacuo, doppio tentativo per lui ma di Girolamo alla meglio. E dopo quattro minuti di recupero termina la gara. Lisernia mette al sicuro questi tre punti importanti in vista dei prossimi due scontri diretti.